Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSCoverwatch Il mio nome è come sempre questo nuovo video e quest'oggi siamo tutti qui riuniti Per guardare un'altra prova e che pare, possibilmente, un altro cheater Quindi, diamoci da fare Ma prima ragazzi volevo augurarvi a tutti una buona Pasqua E niente, andiamo a vedere il cheater di oggi Ok ragazzi, ci siamo, siamo su Last 2, il nostro spettatore è CT E se avesse bagno Opscript sarebbe perfetto come Overwatch per la Pasqua Comunque va in B, stanno arrivando, prende il primo E? Perché non senti i passi dei tizi? Dovrei sentirli, comunque sta cercando B E? Esce sul tizio Ha sparato a casissimo ma l'ha ucciso Sta facendo 4 kill, 6 morti, 62 di average damage per round Il 100% di HS però su 4 kill non è difficile Vede il tizio, lo uccide e oh Gesù Santissimo Quel crosshair positioning Quel crosshair positioning e quel pre-fire Ai 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 ai, signora Longari Intanto tutti i Terro stanno andando verso A Hanno già preso una pick in mid Quindi 4 contro 5 In realtà non stanno proprio andando in A La bomba si, la bomba sta andando in A a cazzo duro Ma stanno prendendo in realtà il mid Quindi la bomba si è fatta vedere in lunga Sono usciti a uccidere il tizio in lunga E il tizio in short E si, questo è Questo è palesemente wallack Riga Questo è palesemente wallack Cioè sta mirando in giro eccetera eccetera Ma perché a tempo Sto continuando Vedete che li tiene Nella Li tiene in vista Vedete che sono lì a destra Stanno pushando Arrivano le smoke e le flash Le nade Prende il primo Ha anche hittato il secondo Per me è wallack Per me ragazzuoli è wallack Si avvicina Mira già il tizio Eccolo lì si 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 ha fatto finta Sta cercando di nasconderlo il merda Cercando di fare bravo Però guardate Guardate come è precisamente Mirate esattamente Non ha controllato Sopra le casse Non ha controllato la rampa Ha solo controllato l'angolino delle casse Dove c'era il tizio E il posto dove c'era il tizio in Oddio In barili Quindi Cioè sta provando a nasconderlo Palesemente Ma non è capace a farlo Cioè Non puoi controllare solo le zone dove ci sono i nemici Tanto qua salta Fa un po' il cretino Guarda in buio Non c'è nessuno ovviamente in buio Uno viene ucciso che ha pushato mid Ma il vero push sta arrivando a scale Viene ucciso anche beta Dalla vp di bell Lui decide di pushare in buio basso E wait for it E beh E beh Allora sei un fenomeno eh Allora sei un fenomeno Wait for it Prende anche il secondo Però gli arriva una nade E viene messo a sedere col culo a terra Perché purtroppo il wallack Non ti salva dalle nade Brutta merda Però è palesemente wallack Cioè è proprio Palesemente Prova a nasconderlo eh Sta provando a nasconderlo Ma in maniera così maldestra Che è Quasi non ci crede neanche lui Cioè lui fa Sì io provo a nasconderlo wallack Ma si vede che sono così tanto scarso Che ho bisogno del wallack Per sopravvivere Attenzione Allora avanza di nuovo In buia Con la USP Checca l'angoletto Per proprio a caso così Eeeh Nope Bitch Adesso già il mirino Sul tizio lì a sinistra Cioè poi Poi non sa sparare Però ci sta provando Cioè Ci sta provando tanto a nascondere Il fatto che abbia wallack Ma tantissimo Cosa fai? Cosa fai? Perché coltelli il muro? Che sei? O chef Tony? Vuoi farci vedere che C'hai i coltelli super affilati? Eh Tanto decidi di passare Comunque verso BZ E già in una buona posizione No Non ha deciso di non avanzare Quindi Ha Bungo dietro E lui già Già mirando Bungo A destra Però Z Gli puscia E se lo incula male Bomba plantata Bomba esplosa 7 a 5 Credo fosse esplosa Credo di sì Non ne ho idea in realtà Però noi A caso pensiamo di sì Arriva un'altra smoke Lì In B E lui picca comunque Oltre alla smoke Mi frega un cazzo E decide di spostarsi totalmente Da B a mid Sta mirando sopra Aspetta Ha provato il flick E farlo troppo prima Sapete che potrebbe essere Anche un po' di aimlock Che utilizza A modi wallack Cioè Ha il wallack Secondo me Ma Il mirino prima È proprio volato Sulla testa di Benjo In maniera incredibile Si sai che è lì Frog lo uccide E adesso Mira cattedrale Rose ha sparato Se Rose non avesse sparato Nelle porte Questa sarebbe Un'altra prova Un'altra prova del wallack Comunque Potrei aver visto Un tocco di aimlock In quel momento In cui Praticamente Stava mirando Verso Verso Sia quando mirava Short Sopra la smoke Che poi Ha sparato Ma non ha fliccato Secondo me È perché Non gli ha preso Il comando Per attivare L'aimlock Cioè Lui potrebbe attivare L'aimlock Per i flick Capite la merda No Cioè Lui mira da qualche Altra parte Per far sembrare Normale Il wallack E l'aimlock Lo usa per mascherare Il fatto che Non sa fliccare Ed è il motivo Per cui è stato Fermo Fai proprio schifo È il motivo Per cui è stato Fermo No Vede In questo modo qua In questo modo qua Avete visto Stamina Da tutt'altra parte Schiaccia il tastino Per l'aimlock E quindi Sembra che flicchi Questo Questo è Il mio Ragionamento Dietro Perché non ha senso Quel flick Che ha fatto Che è finito Direttamente Sulla testa Di uno Dietro una porta Poi non ha sparato Ma è finito Direttamente Sulla testa Di uno Dietro la porta Quindi Secondo me Per i flick O per le situazioni Spinose Dove sta cercando Di nascondere Il fatto che Abbia wallack Lui usa Usa l'aimlock Tipo qua L'ha preso Dietro la cosa Magari non è proprio Aimlock Di quelli pesanti Ma è tipo Silent aim O qualcosa Del genere Quindi per me Non ci sono dubbi Ragazzi Io gli do anche La cosa Dell'aimlock Barra Smooth aim Perché Secondo me L'ha toglato male L'ha toglato Veramente male Quindi Fatemi sapere Cosa ne pensate Il mio nome è come sempre Qui Tono 8 Buona Pasqua a tutti Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re Del let's play One way